Ci troviamo a Malagnino, a pochi chilometri da Cremona, proprio nel punto che è stato teatro di un episodio pericoloso. Le sbarre infatti di questo passaggio a livello durante dei lavori notturni sono rimaste alzate. Abbiamo ancora tutti nella mente quanto accaduto il giorno di Ferragosto tra Maleo e Pizzighettone, quando la 34enne Elisa Consadori è stata travolta e uccisa da un treno, mentre con la sua auto attraversava un passaggio a livello rimasto aperto durante il transito del convoglio. Ho subito contattato la direzione a Milano che si occupa della gestione delle sbarre e dei passaggi a livello e lì mi hanno rassicurato, hanno detto guardi sindaco sono in corso dei lavori notturni, del quale ero a conoscenza, la circolazione è stata interrotta dalle 10 alle 3 di notte e quello che lei vede passare è il convoglio ferroviario dei manutentori. Al che io ho detto guardate però le sbarre sono rimaste alzate, costituiscono pericolo, poi insomma sentendo quello che è caduto nelle settimane scorse mi sono preoccupato, però la situazione è questa, c'è stata una situazione di pericolo. Vista la loro pericolosità non si potrebbe pensare alla loro soppressione? Ci sono ben due progetti che dovrebbero interessare il nostro territorio, uno è quello del raddoppio della linea ferroviaria in cui è previsto un cavalcavia appena fuori dal paese e lo stesso cavalcavia lo si vede nel progetto delle opere accessorie dell'autostrada e quindi noi come amministrazione comunale ospichiamo veramente che l'annoso problema del passaggio a livello venga risolto. In realtà speriamo anche che venga usato questo tracciato con un sottopasso proprio per evitare consumo di suolo e tagli di campi importanti, per cui noi speriamo che le nostre eccellenze non vengano attraversate da nuove opere viarie. L'episodio ha provocato grande preoccupazione. È veramente molto rischioso e pericoloso e soprattutto non mi chiedo come mai, perché di solito vengono abbassate, non ci si può distrarre, secondo me non c'erano solo i macchinari, c'erano anche delle persone, quindi magari tu sei lì in mezzo alla strada, arriva l'automobile, poteva succedere l'irreparabile. La cosa è estremamente pericolosa, la situazione non è piacevole perché non puoi mai sapere chi passa in quel momento.